Il cielo coperto di Pasquetta non ha cancellato le buone performance ricettive del riminese. L'associazione albergatoria ha comunicato che gli alberghi sono stati riempiti per l'80%. Un weekend festivo caratterizzato da decine di migliaia di presenze turistiche, tra spiange e centro storico, tra sport, culture ed enogastronomia. Un ottimo battesimo per questa stagione dei ponti della primavera riminese. 15 giorni tra Pasqua e il 5 maggio che rappresentano una preview della prossima stagione estiva grazie all'offerta di eventi di esperienze proposte da pubblico e privato con il sistema dell'accoglienza e dell'ospitalità già in funzione pieno regime. Il sole e le temperature gradevoli che hanno contraddistinto gran parte del weekend pasquale hanno consentito di confermare e spingere le positive previsioni della vigilia che ha visto oltre 700 strutture alberghiere già operative. Un ottimo colpo d'occhio sulle spiagge e anche sul lungomare che sono stati presi d'assalto dai riminesi turisti, così come nel centro storico, musei, domus e teatro galli. Questo lungo periodo di festività ai ponti si apre con riscontri ottimi confermando le migliori aspettative della vigilia, ha sottolineato il sindaco Andrea Gnassi. Ancora una volta a Rimini si conferma una delle mete privilegiate dai visitatori che vogliono lasciarsi alle spalle l'inverno e godersi la vasta offerta che l'intero territorio sa offrire, tra cultura, sport, attività per famiglie e non gastronomia e dentro terra. Le previsioni sono state rispettate, ha aggiunto poi Patrizia Rinaldis, presidente dell'AIA riminese. Non c'è stato il tutto esaurito, dice, ma contiamo di continuare a lavorare ad alto regime fino al ponte del primo maggio.